Da quello che ho capito il Presidente Caldoro dice che il suo impegno è nell'azione di governo della Regione, quindi la buona amministrazione regionale sostanzialmente costituirà il suo impegno politico nella campagna elettorale del Pdl, questo mi sembra di capire, essendo come dire delegato ai candidati che sono tutti candidati di primo piano di svolgere la campagna elettorale. Io prendo atto di questa dichiarazione, personalmente non dico altro, pongo però come dire se questa è la questione dico anche che della bontà dell'azione della Regione ne potranno soffrire anche gli attuali sospesi assessori sommese e demita che invece corrono contro il Pdl e per certi versi ne potrà soffrire anche il consigliere regionale Zecchino che corre per la lista monte. Insomma, nonostante gli inviti alla distensione e alla coesione, le stoccate arrivano e come anche se a distanza. Queste ieri le parole del nuovo coordinatore in campagna del Pdl, Francesco Nitto Palma, nel corso della conferenza stampa con la quale ha ufficializzato la sua investitura, arrivata direttamente dal Premier Silvio Berlusconi, nonostante veti anche non troppo velati pervenuti nei giorni scorsi da parte ad esempio del Presidente Caldoro e dell'ex Ministro Carfagna. Così ieri il neocoordinatore puntuale è arrivata alla risposta del Presidente Caldoro che in primo luogo mette in discussione proprio Nitto Palma e il suo ruolo al vertice del Pdl. Non ho cambiato idea, considero Palma persona preparata e colta, ma per quel ruolo è più giusto che ci sia un campano. Insomma, idee chiare da parte del Presidente Caldoro per il quale il Pdl è e resta Berlusconi che riesce a conquistare l'elettorato su questioni importanti, un elettorato che è legato a ciò che lui rappresenta in Italia, pur invitando comunque alla coesione e a concentrarsi sui problemi dei cittadini che dovranno essere al centro della campagna elettorale. E sugli assessori congelati sferra un'altra stoccata Nitto Palma, con i provvedimenti che abbiamo messo in campo, di fatto non fanno più gli assessori. Oggi loro non entrano nemmeno in ufficio. Le dimissioni invece avrebbero posto una questione di scelte successive, come ad esempio il rimpasto.